Il sopralluogo congiunto Eboli-Battipaglia effettuato questa mattina, subito dopo che erano stati avvertiti cattivi duri a Battipaglia, ha confermato l'estranità dell'impianto di compostaggio di Eboli rispetto all'ondata di miasmi registrate in alcune aree cittadine di Battipaglia. La delegazione di Battipaglia è composta dalla sindaca Cecilio Francese, dall'assessore Stefania Vecchio e dal comandante della Polizia Municipale Gerardo Iuliano e sarà accolta dall'assessore comunale all'ambiente di Eboli Ennio Ginetti. Il sindaco Cariello ha spiegato, l'iniziativa di questa mattina consegue i miasmi avvertiti a Battipaglia, evidente dopo le dimostrazioni di questa mattina come il problema dei cattivi duri dipenda da altro e non dal nostro impianto. In ogni caso invito a fare squadra come merito al nostro territorio per dare risposte ai cittadini. L'assessore Ennio Ginetti ha informato, dimostrata l'estranità ai miasmi quotidianamente, stiamo predisponendo anche un controllo serrato di notte, sperando che venga fatto pure nella vicina Battipaglia, sia nelle strutture pubbliche che private.